Ciao a tutti, in un di questo nuovo episodio di Spore. Dopo tempo che non facevo più episodi su questo gioco per problemi tecnici del computer, finalmente ora riesco a fare altri video. Perciò, iniziamo subito con una di queste due missioni che abbiamo qua. Abbiamo aiuto il manager a organizzare un concerto, ma sono due, sì, sono le due avventure che avevamo sbloccato la volta scorsa. Io direi di cominciare a fare questo, il pianetamento, che è questa qua, questa sopra, perfetto. Diciamo che possiamo provare a fare questa missione. Diciamo che lo facciamo, vai. Facciamo questa avventura. Scendiamo sul pianeta, perché non possiamo nemmeno poter tenerci altri, insomma, amici. Ok, ci vediamo sul pianeta. Ok, perfetto, il coronel Lugun è un autentico guru musicale di famiglia dell'intergalattica. Ha bisogno di assistenza immediata, scende sul pianeta, vabbè, scende sul pianeta, siamo già sul pianeta. Va bene, perfetto. Avanziamo, dobbiamo, ah, dobbiamo parlare con lui, eh, di questo tizio dobbiamo parlare. Vediamo un po' cosa ci dice. Ciao dai! Beh, ciao ciao, poi? Oh, ma guarda, c'è una vera gioia con gli occhi, sono Farcus, il colonnello, Jim, Farcus, puoi chiamarmi colonnello. Perfetto, colonnello. Sono un imagine produttore e organizzatore di eventi per le celebrità più famose della galassia, incluso il famoso e inimitabile, vabbè, Swerved Green, o cazzo chi ha? Non so sponere. Pare che stamattina abbia litigato con le sue cantanti di supporto. E ora mi mancio di sciogliere la band poche ore prima del concetto benefico che è organizzato nel parco. Beh, sì, tecati. Un grande talento. Tutto sì, eh? Sceglie, che un cazzo di sin nome non lo so. Ma ha bisogno di quelle cantanti per ottenere il suo sound unico. Devi trovarle e farle capire che lo spettacolo deve continuare. Ok, va bene. Quasi abitanti della città occorrono aiutarti con l'indizio utile prima di cercare di ingracciare la cantante Lotta. Trovarla sarà il buon punto per trovare Swerved e la sua band. Perfetto. Allora, andiamo. Avanziamo. Vediamo che non si congiate. Oh, vabbè, siamo tutti ragazzini, ragazzine. Sti bimbi minchia. Quasi, quasi. Vabbè, lasciamo stare lì. Allora, dov'è che devo andare? Devo andare per di qua. Mi sa che devo andare per... Ah, eccola, perfetto. Ci siamo, eccoci qua. Parliamo con lei. L'oggetto che ci fa in questo posto. Oh, come andai con un nero scommetto che vuole farmi... E a specificare con... Oggi abbiamo avuto una brutta discussione, ma so bene che lo spettacolo deve continuare. Aiutami a ripassare la mia parte, così se l'averò il morale e potremo andare a parlare con Shepin. Vabbè. I nostri fan sono molto importanti. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Alleati con l'Holt. Vabbè, vediamo un po'. Dobbiamo cantare. Perfetto. Ora, dove dobbiamo andare? Oh, dov'è? Ah, devo riparlare con lei. Oh, vieni qui. Ci devo riparlare tante volte, addirittura. Beh, ho deciso di essere fantastico. Io ci sarò con tutto il mio entusiasmo e voglio fare un bel concerto. Sariamo sull'alline e vediamo se quello shock è a casa. Sento che presto ci sarà un concetto memorabile. Perfetto. Ah, andiamo dalla Rido Scatola. Dalla Rido Scatola. Sento che il nome. Rido Scatola. Questa missione qui l'ho fatta... Non so quante volte l'ho fatta, questa missione. Quindi ormai me la riodo bene. Allora, vediamo un po'. Vediamo subito dalla Rido Scatola. Che è questa qua. Pronto? Chi è? Oh, c'è una rotta. Sei qui per stilarmi addosso. Chi è il tuo amichetto? Forza, sei pronta a perdonarmi, a fare il concerto? Ragazzi, bene. Grazie mille. Io bene, mi dispiace molto per questa risoluzione. Forza, sei fatto bene. Forza, sei fatto bene. Arrabbiati con me. Mmm, va bene. Volevo tanto esprimere il concetto, l'olta. Ma sebbene che non siamo una vera barbent senza Kat Waller. Abbiamo bisogno anche di lei. Quindi ci sarò solo se verrà anche Kat. Vai in città con il tuo amichetto e chiedi a Gigos dove potrebbe essersi cacciata. Portala qui. Andiamo al concetto tutti insieme. Perfetto. Andiamo. Opla, opla. Voliamo giù, facciamo prima. Ah. Là. Non si può volare. Ok, dobbiamo andare però da quest'altra parte, se mi ricordo male. Eccola là. Eccola qua. Ci siamo. Oh, vai. Ehi, noto perché sei venuto fin qui, che è il tuo amichetto. Amichetto, sembra amichetto. Pronto a esibirsi? Io non mi sento ancora pronta. Come dici, il tuo amico mi riferirà a passare la parte? Ah, magnifico. Vediamo cosa sai fare. Un po' di prova, forse il concetto non sarà un disastro sudo. Vai. Perfetto. Adesso dove dobbiamo andare? Eh. Parla con Kat. Con Kat devo parlare. Con lei. No, con Kat. Ecco lei. Perfetto. Devo riparlare un'altra volta con lei. Prima. Mi porto ad andare la grido scatola. Oh, fantastico. Vi vedete una bella botta di adrenalina. Che ne dici, vi fanno un bel concetto. Andiamo a casa. Adesso la collina e dirgli che siamo pronti a scatenarci. Quando vedrà la benda completa, vi si fanno pronti a roccheggiare. Come non l'abbiamo fatto prima d'ora. Perfetto. Andiamo. 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 Su, su, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Dobbiamo raggiungere la grido scatola. Ancora una volta. Tanto che è il suo scitofono. Eccoci qua. Oh, guarda, c'è anche la jeep, c'è anche la macchina. Ah. Devo parlare col tizio. Oh, che tipo che è questo, è. Ehi, l'altro, l'altro, bello di vedervi. Scusate la vostra stupida discussione di stamattina. Ricordo molto bene i motivi del nostro antigeno, ma, oh. Non sapete quanto mi dispiace, ragazze, e il vostro amichetto. Comunque vi porgo le mie scuse. Non sapete quanto mi dispiace, e volevo regalarvi la macchina per ciascuna. Foia. Ecco, tutto sistemato. Ehi, i nostri fedeli fan ci stanno aspettando. Dobbiamo desiderci. Faccici strana, piccola strana creatura che mi hai vista prima. D'accordo, andiamo. Andiamo. Oh, su. Fozza. Ok, eccoci qua. Ora falliamo col colonnello. Davvero magnifico, stupendo, incredibile. Ce l'è fatta, non comincio, ce l'è fatta. Eh, profitto per venire la band e portare Sheldin al concerto in tempo. Cioè, è stato un concerto probabilmente la mia carriera. Non potrò mai sdebitarmi non te, 15. Non ci provo neppure, ma fanculo. Ora, rilassi e ti godi lo spettacolo. E Sheldin verso Bè. Perfetto. Complimenti ce l'hai fatta, grazie a te lo spettacolo potrà continuare. Bene. 100 punti e sblocchiamo un altro aggeggio. Vediamo un po' cosa sbloccare. Cosa prendiamo? Cosa prendiamo? Cosa prendiamo? Cosa prendiamo? Cosa prendiamo? Questo qua. Fatto. Perfetto, abbiamo completato la nostra bella missione. Torniamo al pianeta dei nostri amicetti qui che ce l'hanno affidata e incassiamo i 30.000 Spore a credito. Beh, vendiamo che la spezza, vai, così ci vogliamo qualcosa in più. Perfetto, direi che anche per questo primo episodio di Spore dopo lungo un certo periodo è praticamente tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio con nuove avventure nel nostro capitano spaziale. Ciao a tutti.